Il teatro come luogo di scambio tra le diverse forme d'arte che vanno a comporre la scena del presente. Nello storico Teatro Filodrammatici di Milano, Paolo Giubileo ci guida lungo la grande scala progettata dall'architetto Caccia Domignoni e ci presenta il progetto di mostre da lui curato per gli spazi del teatro. Il progetto di fare queste mostre all'interno del teatro Filodrammatici nasce dall'idea che questo teatro da qualche anno ha una direzione artistica votata alla drammaturgia contemporanea. L'idea è quella di utilizzare questo spazio creato da Caccia Domignoni, un spazio che diventasse in qualche modo un contenitore che facesse dialogare i diversi linguaggi del contemporaneo. In questo caso l'esposizione è dedicata a Paolo Ventura e ai suoi luoghi teatrali chiamati in più modi a dialogare con la fisicità dei filodrammatici oltre che a fornire un'immagine meno vista del lavoro dell'artista milanese poi adottato da New York. È un artista che ha la teatralità insita nel suo lavoro. Lui lavora generalmente, fa dei piccoli set che costruisce lui stesso e poi li fotografa. Quindi ci sembrava in qualche modo naturale che venisse rappresentato qui. Poi presentiamo questo focus prettamente di lavori bozzetti che lui ha fatto per il teatro. Uno è Carousel, l'opera Carousel e l'altro appunto Pagliacci. La mostra di Ventura, che è curata nello specifico da Luca Panaro su progetto di giubileo, resta aperta al pubblico di Milano fino al 26 marzo 2018.